A Dacicatena stasera tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale, seduta teoricamente in dolore visto che si dovrebbe procedere all'approvazione del regolamento per l'affidamento dei cani. Ha il parede sia tecnico che quella della Commissione proposto dal trio Aleo Lucchesi Sorbello, la cui valutazione ha propiziato il rinvio dal Consiglio Comunale due settimane fa. Stasera restano inoltre da votare la seconda dichiarazione di pubblica utilità per gli espropi necessari per la realizzazione della strada di collegamento tra la via Carcara e la circunvalazione Russo-Basile ad Aci San Filippo e il regolamento sulla tasi, la tassa sui servizi indifferibili. Sulla carta tutte e tre le proposte ridelibere potrebbero essere votate all'unanimità. Tutta al più l'opposizione dovrebbe decidere di astenersi. Sicuramente il Consiglio Comunale di Aci Catena potrebbe ritrovarsi a settembre e già in via palestra si dovrebbe iniziare a respirare l'area del bilancio di previsione.